Una piantagione di marijuana è stata scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Olbia nel centro abitato. I militari, in seguito a diversi appostamenti, hanno individuato un centro di spaccio in un condominio di via Genergentu, dove avevano notato un certo viavai di persone che notoriamente fanno uso di sostanze stupefacenti. Con l'ausilio dei cani antidroga hanno quindi fatto irruzione nell'immobile fino ad arrivare ad una mansarda, dove, nascosta da alcuni pannelli di compensato, era stata realizzata una vera e propria serra per la coltivazione di piante di canapa indiana, con tanto di sistema di innaffiatura, illuminazione e ventilazione. Nell'operazione è stato anche arrestato il proprietario dell'appartamento, un uomo di 35 anni, che è stato trovato in possesso anche di un consistente quantitativo di marijuana già essiccato e pronto per la vendita.